Combattere lo stigma sociale che spesso comporta l'esclusione da una vita normale per chi convive con l'epilessia. E' l'obiettivo della campagna Si va in scena storie di epilessia lanciata dalla Lega Italiana contro l'epilessia e Fondazione Lice con il Giffoni Film Festival in occasione della giornata internazionale dell'epilessia. Ne parliamo con Laura Tassi, presidente Lice. Presentiamo quindi questa nuovissima iniziativa, lanciamo un contest Si va in scena. Cosa significa? Chiediamo alle persone con epilessia o ai loro caregivers di scrivere una storia. La storia della loro inclusione scolastica o sociale nel modo che ci raccontino che cosa è successo nella loro vita, sia che sia andata bene sia che sia andata male. Una giuria sceglierà la storia migliore. La storia migliore verrà sceneggiata e verrà prodotto un corto dai registi del festival di Giffoni e questo corto verrà presentato a luglio nel corso del festival e speriamo anche alla mostra del cinema di Venezia. Perché? Perché vogliamo che di epilessia si parli, perché di epilessia non bisogna avere paura. La vita è un teatro ed ognuno di noi va in scena tutti i giorni, nessuno escluso. Questo è il messaggio rivolto a chi soffre di questa patologia, spronandoli a non arrendersi ad essa e ad affrontarla con consapevolezza e coraggio in ogni ambito della vita. Le parole di Ivan Dischiena di UCB. Noi siamo molto orgogliosi e onorati di essere accanto a Alice per questa campagna, campagna che parte dall'ascolto delle persone con epilessia, quindi la forma migliore che noi prediligiamo per aumentare da una parte la conoscenza dell'epilessia nella popolazione generale, si parla troppo poco di epilessia e dall'altra parte per abbattere lo stigma, il muro dello stigma che c'è ancora intorno a questa patologia, dando consapevolezza alle persone con epilessia che non sono sole, che possono contare su terapie efficaci e di terapisti, di specialisti ad elevata competenza. In Italia le persone con epilessia sono circa 600.000, si tratta di una patologia cronica che può colpire ogni età con picchi di incidenza nei primi anni di vita e in età avanzata. L'importanza della ricerca nelle parole di Michela Procaccini di Angelini Pharma e di Luca Fabri di Jazz Pharmaceuticals. L'impegno di Jazz Pharmaceuticals nell'epilessia è specifico nelle sindrome quindi rare delle encefalopatie epilettiche e dello sviluppo, che sono caratterizzate dalla presenza di farmacoresistenza e anche da gravi crisi, quindi talvolta anche molto frequenti. Portiamo avanti le nostre iniziative sia nell'ambito della ricerca con degli studi sia a livello nazionale che a livello internazionale, che sono studi real world, quindi studi su paziente direttamente in pratica clinica, perché riteniamo che sia importante dopo gli studi teorici, che sono quelli randomizzati che vengono utilizzati nella commercializzazione, comunque dare dei dati e delle informazioni sempre più realistiche.